Da Gauto, Mitsubishi Motors, in via nazionale torrente, mercogliano, Avellino. La strage di cani sembra non avere confini. Il lungo e il largo per l'Irpinia, mani assassini e seminano morte tra i quattro zampe killer e seriali, che purtroppo più delle volte restano liberi di ammazzare ancora. Dopo l'escalation di averinamenti che in un solo mese ha metuto decine di vittime, incontrata Chiare ad Avellino, sui social Giugge è accompagnata da un'infinita scia di rabbia e dolore la notizia di una mattanza di cani a Cassano. In un'area recintata di un terreno privato, Samantha ha rimanuto cadaveri i suoi sei cani. Samantha, che accudiva i suoi quattro zampe con amore, ha postato su Facebook la foto che ritrae l'immagine drammatica dei suoi amici che giacciono privi di vita a terra. Il nome è l'età delle vittime, sostenuti da un messaggio che con notati è un epitafio votato alla condanna. Ciccio otto anni, Pepita cinque anni, Birra cinque anni, Printil tre anni, Kira e Mila sedici mesi. Perdonatemi, scrive Samantha, se non vi ho saputo proteggere dalla crudeltà umana. Vi amerò per sempre. Samantha ha presentato denuncia contro i gnoti presso i carabinieri di Montella. Scartate le indagini, il veterinario ha effettuato un'autopsia su uno dei cani per accertare le cause della strage. Una morte fulminante che ha stroncato Ciccio e i suoi fratelli in una manciata di secondi. Sul web, in molti, invocano giustizia per i sei cuccioli. Una punizione esemplare perché ha compiuto la mattanza. Purtroppo ci tocca constatare sulle ali dell'ancora dolorosa esperienza di Contrada Chiaire, che nonostante denuncia testimonianze, però, la giustizia per i più fedeli amici dell'uomo resta una chimera.